Attraverseranno di nuovo le strade di Firenze manifestando tutta la loro rabbia per quel licenziamento considerato ingiusto. Ma nel frattempo la proprietà della GKN di Campi Bisenzio ha già messo l'azienda in liquidazione, mentre si attendeva all'esito del tavolo di crisi al Ministero dello Sviluppo Economico. Lo ha fatto dal 7 settembre scorso, ufficializzando la chiusura e depositando i documenti alla Camera di Commercio di Bolzano. Di fatto l'azienda ha dato seguito alle parole che Andrea Ghezzi, amministratore delegato, aveva detto alla Corriere Fiorentino, chiusura inevitabile. E c'è un passaggio nei documenti che pare essere molto distante dalle dichiarazioni dell'amministratore delegato che aveva detto che la scelta di chiudere era stata presa a Firenze e non a Londra. Nella relazione allegata al bilancio, come ricostruisce lo stesso giornale, emerge che la sorella della GKN Fiorentina, quella che ha sede in Alto Adige, esercita un accurato controllo e un coordinamento della gestione della società controllata, ovvero quella di Campi, per salvaguardare le strategie del gruppo GKN Merrose. Del fatto che la società con sede a Brunico fosse la diretta proprietaria di quella fiorentina, ne aveva parlato l'ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte con gli stessi operai della GKN, nel corso dell'incontro tenuto con la viceministra Todd mercoledì scorso davanti ai cancelli della fabbrica.